In questo momento che si parla di riorganizzazione territoriale degli enti, io credo che i comuni devono pensare attivamente alla loro riorganizzazione e alla loro riorganizzazione in terma di unione, di unione o anche di fusione tra comuni, perché solamente così in questo momento particolare e anche problematico si possono continuare a garantire i servizi e servizi di qualità ai propri cittadini. Ecco che allora anch'io come sindaco del Comune di Trevignano ho intrapreso questa strada insieme ad altri sei comuni dell'area Montebellunese, tra l'altro tutti i comuni non obbligati dalla legge a seguire forme di associazionismo, ma perché su questo ragionamento abbiamo trovato una convergenza, che solamente così potremo garantire certi livelli di servizi e soprattutto efficienza, ma soprattutto efficacia nei servizi. Io porto l'esempio del mio comune, un comune di 10.600 abitanti che si trova ad operare con una sola assistente sociale, quindi in un momento così problematico, solamente trovando l'aiuto di comuni vicini che magari si trovano con situazioni dal punto di vista di personale sicuramente migliori della mia, posso dare l'efficacia al servizio che in questo momento non ho. Ho sicuramente l'efficienza dal punto di vista finanziario, ma non ho l'efficacia che mi serve sul territorio, quindi è importante che i sindaci comincino a ripensare la loro autonomia all'interno di un'associazione con altri sindaci.